Quindi, 10 euro Ciao ragazzi, sono Musio e oggi siamo tornati in questo nuovo vlog In questo nuovo vlog con la maglia della Juventus Tarocca 10 euro Quindi, 10 euro Ok Se mi chiedete se sono Juventino Sì, sono Juventino E la partita del Barcellona Se dobbiamo parlare della partita Il rigore su Pogba Diciamo che c'era Ok In queste 2-3 settimane Se non esce niente Adesso vi spiego il perché Praticamente Come sapete tutti è finita la scuola Finalmente E io non so dire finalmente Oppure Non volevo che finiva Perché Praticamente ho l'esame Ragazzi, se per un po' non esco un video È perché ho l'esame fra una settimana Quindi adesso sto studiando il più possibile Poi dopo sto Diciamo Perché noi iniziamo gli iscritti fra una settimana Cioè lunedì Oggi è lunedì Questo Oggi è lunedì Il lunedì prossimo iniziano gli iscritti Fino a venerdì Poi il lunedì dopo Dovrebbero iniziare gli orali Però non si sa se Noi iniziamo Subito il lunedì dopo Oppure I giorni seguenti Perché Appunto estraggono La lettera Quindi io Non so quando ci sono So per certo che Questa settimana qui Devo studiare E quella dopo Ho gli iscritti Quindi Non so se riesco a pubblicare video Se pubblico un video Uscirà un vlog Magari nel corso dell'esame Però non sono sicuro Perché Comunque adesso In questo mesettino qui Sto tenendo più alla scuola Perché Ragazzi Se mi volete dare aiuto Con l'esame Lasciate un bel mi piace Vi prego Io farei esame Anch'io quest'anno Poi Lasciate un commento Sempre per i giochi Che devo fare Scriviatemi Delle altre mappe Se volete che le faccio Le mappe non difficili Per favore Perché comunque Ok Cioè Non è anche facilissimo Ma neanche troppo difficile A livello del trio Cioè Ok Ok Aspetta Aspetta Ok Vabbè Dopo questo momento Molto Acab Possiamo Concludere Quindi Lasciate un bel mi piace Un bel commento Per consigliarmi Delle nuove mappe Giochi Così E mazzrate varie E Guardate i video Che sono nel mio canale Mi raccomando Passate dal mio canale E Bella Bella Alla Alla Grazie a tutti.